Vanno oltre ogni limite e sanno resistere alla fatica più estrema. Sono gli Iron Man, gli uomini d'acciaio. Dal 18 al 24 novembre, tutti i giorni alle 20, segui su Bike Channel lo spettacolo dell'Iron Man World Championship 2015. Iron Man World Championship 2015, un'esclusiva di Bike Channel. Un'esclusiva di Bike Channel.